Stasera festeggiamo alla Ponte Vecchio e dopo qui alla piazza di Santa Maria Novella perché è un concerto classico. Non siete di Firenze? No, Vicentini. Siete venuti per il Capodanno in piazza però? Proviamo a cambiare dieta, di solito mangiamo i gatti stasera a Fiorentina. Saremo in piazza molto probabilmente. Col trolley, ma avete dove dormire? No, abbiamo una casa, abbiamo una casa assolutamente. Da dove vieni? Parma. Cena? A casa, molto probabilmente. Ah, bella domanda, ci cogli veramente impreparati. Di dove siete? Roma. E siete a Firenze per il Capodanno però? Sì. In piazza probabilmente? Sì, piazza, una cena a casa tranquilla, un aperitivo, locali. Perché da Roma venire a Firenze? Perché Roma la conosciamo come le nostre tasche. Perché a Firenze per il Capodanno? Così, era la metà più vicina. Abbiamo anche un nostro amico che abita qua, quindi diciamo due piccioni con una fava. Ci sono 20 piazze a disposizione, avete già scelto quale? Ce ne ha parlato, ce ne ha accennato uno al nostro amico qua di Firenze che c'è musica un po' più, diciamo cos'è, un po' tecnico, non so, noi piace un po' il genere lì, magari andremo lì, penso. Abbiamo un programma in tasca che ci hanno dato in giro. Cena? Dobbiamo sceglierla. Ancora nulla? Ancora nulla, forse anche per strada, così, tra i vari negozi. Un concerto in Palazzo Vecchio, in Salone 500, molto interessante direi come programma.